Salve, sono Alberto Di Felice e allevo Capra Emulsiane a Bauladu, in Sardegna. Nella mia azienda utilizzo una stazione meteorologica indoor collegata all'interno della pesca maniera della stalla. Utilizzo questa tecnologia per cercare di migliorare il benessere degli animali, raffrescando le giornate più calde con queste ventole e cercare di areggiare il più possibile l'interno della stalla. Mi piace perché riesco con queste ventole a non avere un calo del latte e diminuiscono lo spesso da caldo. Su animali che comunque riescono a mantenere comunque una curva di latazione abbastanza persistente durante il periodo caldo, però riesco comunque con questi ventoloni a perseguire e a ritenere costante l'ingestione dei foraggi e dei concentrati. Il problema più grosso di questo tipo di sistema è ovviamente il dispendio energetico. In un momento delicato come questo è molto importante efficientare con energie rinnovabili come i pannelli solari, piuttosto che accumuli energetici eccetera, l'utilizzo di questo tipo di sistema. Migliorerei questo tipo di sistema cercando di studiare qualcosa che possa efficientare appunto il dispendio energetico giornaliero.